Genus Romandiole, un premio dedicato all'ingegno e all'eccellenza romagnola, un venerdì pomeriggio all'insegna della cultura, quello organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì e da Tribunato di Romagna. Dalle ore 16.30 all'auditorio Un Cassa di Risparmi si terrà la premiazione di due eccellenze, esempio di quello che può fare la Genus Romandiole, termine latino che significa la stirpe della piccola Romagna. L'individuazione dei vincitori è stata una democratica presentazione da parte di enti pubblici e privati del territorio, come giornali e accademie, di possibili candidati. Successivamente si è realizzata una piccola convention per discutere su chi fossero i due prescelti più indicati. Un premio che vuole essere una spinta all'eccellenza e all'uscita da questo lungo periodo buio. I premiati saranno Antonio Paolucci per il premio all'arte e alla cultura e per l'industria Gianfranco Magnani, presidente della Rosetti Marino S.P.A. di Ravenna. Il premio è una scultura a frutto del lavoro dell'artista Ivo Gensini, un'opera che rappresenta il lavoro delle campagne attraverso la raffigurazione di due anelli che si fondono, quello dell'ospitalità e quello dell'uso della fune. Un pomeriggio in cui non può mancare chi sente di appartenere a questa splendida Romagna.